E' stata affidata un team di esperti in architettura, ambiente e comunicazione, la ristrutturazione storica e culturale di Parco Rossi a Sant'Orso, a Tigor, a casa del custode, lo storico giardino sorto tra il 1865 e il 1884 grazie all'imprenditore Alessandro Rossi. Quel giardino, arricchito di percorsi didattici, storici e culturali, munito di sistemi multimediali all'avanguardia e assolutamente accessibile, tutti sarà inaugurato domenica 8 maggio. Abbiamo sviluppato dei racconti che potessero restituire alle persone, attraverso un'esperienza emozionale oltre che culturale, un senso di appartenenza al luogo. A restituire la nuova veste al Parco, il progetto regionale comunale sovvenzionato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a sviluppare il progetto Renzo Priante, Carlo Presotto, Diana De Tommaso. Con la tecnologia recuperiamo la storia del paese, dalle persone disabili, dalle loro difficoltà, dall'obiettivo di rendere a loro accessibile il parco, restituiamo a tutte le persone un modo per poterlo godere più a fondo. Per visitare il parco basterà avere con sé uno smartphone, un tablet e un paio di auricolari. Grazie.